E' stata presentata nella sede della Regione Abruzzo a Pescara la proposta di legge per l'ingresso agevolato nel mondo del lavoro per i genitori con figli diversamente abili. All'incontro hanno partecipato tra gli altri il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, la consigliera Sabrina Bocchino e Maria Concetta Falivene, Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Abruzzo, proposta di legge che sarà inviata alle Camere, spiega il presidente Sospiri. Sì, diciamo che il nostro Garante per l'infanzia è un garante che ha grande conoscenza dell'ordinamento giuridico della Repubblica e ha notato che vi è una lacuna che nel corso del tempo è diventata particolarmente complicata, ovvero la non presenza tra le categorie agevolate nelle assunzioni secondo la legge 68 di figure che oggi svolgono una funzione anche di sostituzione dei compiti dello Stato, cioè una madre con un figlio disabile. La Regione ha già provveduto con una serie di norme o di finanziamenti aumentati a creare situazioni in cui il genitore può diventare di fatto il conduttore, l'assistente principale del proprio figlio. Adesso noi non possiamo legiferare in materia di Stato, in questo caso, però possiamo, secondo l'articolo 121 della Costituzione, approvare in Consiglio regionale una norma che diventi da stimolo per il Parlamento. Con la redazione di tale proposta di legge a livello nazionale vogliamo, i leader, in qualche modo colmare quello che vi è una disuguaglianza per quanto riguarda i genitori che hanno i figli diversamente abili, perché da una ricerca che abbiamo effettuato, sia dalla statistica, i genitori che hanno i figli diversamente abili hanno una difficoltà di ingresso al lavoro. E pertanto in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, il secondo comma, che individua proprio che è la Repubblica che deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, in questo caso era un ostacolo sociale. Da considerare che spesso i genitori che hanno figli con tali problematiche purtroppo si affiancano al problema del minore, purtroppo hanno difficoltà di ingresso in sede lavorativa. E credo che tutti quanti noi sappiamo il problema che hanno le donne in generale, quindi c'è sia un gap a livello di occupazione che anche un gap a livello di retribuzione. A maggior ragione queste problematiche si acquiscono quando ci sono dei figli disabili, per cui le donne sono costrette, ma lo fanno anche in maniera, ci mancherebbe più che giusta, ad occuparsi di questi figli, quindi hanno un problema a entrare o rientrare nel mondo del lavoro.